Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo vostro video e oggi siamo ritornati su Fortnite Battle Royale e oggi andremo a vedere la season 5, cioè la nuova sazione quindi è la mia prima volta a farvi vedere il caricamento del gioco infatti sono un po' emozionato per la season 5 perché forse è una delle season più belle di Fortnite e infatti l'internet è lento quindi scusatemi e vi farò vedere il season pass, il pass battaglia che è gratuito, che è quello che si scioppa ma io non lo scioppa ragazzi quindi vi farò vedere questa bella cosa quindi è la mia prima volta a farvi vedere questa cosa del pass battaglia e quindi ecco qua come potete vedere access è in corso e io adesso gioco con la play, infatti io ti ho detto che sono stato bannato dal computer e quindi ci sono qua, potete vedere Fortnite ragazzi, Fortnite vi sta piacendo tantissimo quindi sto continuando a fare dei video su Fortnite quindi se volete class royale di nuovo ditemelo nei commenti infatti sta cazzando quindi lasciamolo calcare il bello è che la season 5 la mappa è diventata più grande ragazzi e ci sono dei nuovi veicoli ragazzi scusa se ho fatto il ritardo a postare dei video per esempio quello di ieri battaglia reale ragazzi come per esempio quello di ieri è perché ragazzi cioè io non me lo ricordo ragazzi quindi la stagione 5 è qui navi vichinghe avamposti del deserto e antiche statue sono apparse un po' in tutta l'isola cioè l'isola la mappa salta su un app k e scopri tutte le nuove location si sono post battaglia questo è sempre al suo filo quindi ragazzi loot lake sfondo del saccheggio questo è il trailer che è bellissimo ragazzi che vi potete vedere l'esplosione del lama da purla il burger raga che è california deserto ora il deserto della california bene ok e poi qua è la nuova skin e questo è il burger di giordo ed ecco qua ragazzi infatti è bellissimo ok quindi ecco qua potete vedere che è bellissima sta cosa ecco qua la season 5 che è bella quindi vedete non ho il v-back per adesso vi farò vedere quindi il primo è la vichinga che è la cacciatrice bella bella e poi c'è questo alla deriva che è bello guarda qua si arriva fine su 6 che è bellissima ragazzi mettete vedere poi c'è questo ballo l'emote che è questo bello dub come si chiama dub del gentil uomo poi c'è il sushi che è carino qua il rock'n'roll icon standard e questo è il palla da canestro poi c'è la borsa che è bella bella ragazzi è bella poi i v-back e poi c'è la skin c'è questo che mi piace lanterna c'è questo che è linea rossa che è bella non mi piace bellina ma non mi piace tanto ragazzi poi c'è la palla da goal c'è il nuovo piccone ascia da burgola poi c'è sei un mito che è bellissimo l'ha splittata sei un mito e poi c'è questa l'unico poi c'è il party in piscina che è una borsa bella 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 questo con questa che quando appare sto cosa è bellissima poi c'è imbarazzato che è un emote calcolato soccorso in corsa che è uno delle skin più brutte di qua forse non lo so poi esplosivi alto potenza errore nel sistema che è bello alla deriva bello pure questo questo è il retoguardian che è per il vikingo poi c'è la trappola e poi c'è questo ballo swipe poi c'è questa cosa che è omen è dell'omen come potete vedere questo è il cristallo di ghiaccio che si ghiacciano le mani come potete vedere qui è la mazza che non mi piace tanto ragazzi poi qua il pallone da spiaggia alla moda bello gusto cavaliere rosso che è bello della screen ragazzi no ragazzi questa è bellissima e poi c'è questa screen del bandoliera poi la torre che è bella 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 poi il pallacanestro di moda di nuovo questo è ballo sfrenato è bello di su e poi c'è questo quanto l'adoro e il ranco che si aggiorna come potete vedere che è bellissimo ragazzi potete vedere quindi questo è tutto qua ci sono dei cosi potete vedere è bello avere questa cosa fortezza del folle qua c'è il solito spacca tutto e se voi non sapete non l'hanno messo ragazzi ragazzi qua c'erano delle sfide iniziali ogni settimana potete vedere qua il mio armadietro non c'è ancora niente un piccone niente quindi qua è fortuna che bello bellissimo il piccone e mi sa che del qua del come si chiama del nello shop non c'è niente quindi ragazzi quasi conclude il video spero che il video vi sia piaciuto date un bel like andate un bel commento se il video vi sia piaciuto e fate esplodere questo tasto rosso con scritto iscriviti e ciao alla prossima